Aprende il fuoco Ottimo lavoro Dovrebbe esserci qualche altro posto di guardia più avanti Kamarov e i suoi uomini ci attenderanno in un campo a nord-ovest Sob, piazza delle Claymore davanti alla porta Puoi attire l'attenzione dei nemici Buonanotte Nemico abattuto Lo senti, Gas? Sì Benvenuti nella Nuova Russia, Capitano Price Il bersaglio, Kamarov Dobbiamo recuperare un informatore Gli ultranazionalisti hanno dei BM-21 sull'altro lato della colina Hanno ucciso centinaia di civili a valle con i loro razzi Non così in fretta Ricorda Beirut Lei viene con noi E qua C'è un posto perfetto dove il vostro cecchino può coprire i miei uomini Sob, vieni qui Cecchini in posizione Gas, copre il fianco sinistro Bianco sinistro coperto Sob, passa al fucile di precisione A tutte le unità, iniziate l'attacco Mitraglieri alle finestre sopra Così gli uomini di Kamarov possono entrare Elimina l'altro mitraglier attraverso il muro Bel colpo Macmillan avrebbe apprezzato Versaglio neutralizzato Boshinway, elicotteri nemici? Non ci aveva parlato degli elicotteri Kamarov Non vi ho nemmeno detto che non ne avreste incontrato Dobbiamo proteggere i miei uomini Di qua Faccia in fretta Kamarov Voglio il mio informatore Non deve preoccuparsi di niente Elimineremo i BM-21 E libereremo la via per raggiungere l'informatore Dovremo farlo parlare con la forza Non ancora Signore, abbiamo compagnia Elicotteri in avvicinamento rapido Non ci aveva parlare con il suo Elicotteri in avvicinamento rapido Non ci aveva parlare con il suo Elicotteri in avvicinamento rapido Non ci aveva parlare con il suo Elicotteri in avvicinamento rapido Elicotteri in avvicinamento rapido Non ci aveva parlare con il suo Non ci aveva parlare con il suo I miei uomini sono ralentati da un'aspera resistenza Mi aiuti a supportarli dalle scogliere E il nostro informatore? Non c'è più tempo E allora aiutateci Più i miei uomini avanzeranno nel villaggio E più possibilità di salvezza avrà il vostro informatore Potpetta per le volили Mitra. Potpetta per le vol 9 Per il pianeta Rappado per le vol�� relating a perso Pologna Preparati Elicoteri Per Takeshi Erbrica La Kemba esrae 문 Versaglio neutralizzato Stiamo facendo progressi, seguitemi verso la centrale elettrica Guardi, l'attacco finale è già iniziato Un altro po' di supporto dal vostro Basta col cecchino, dov'è l'informatore? La casa, la casa nell'area nord-est del villaggio Beh, non è stato così difficile, vero? Contatto! Batteria nemica su dove? Batteria nemica sui! Batteria nemica sui! Grazie a tutti Grazie a tutti Merda, muoviamoci Potrebbe essere ancora vivo Gas, va sul retro e toglie la corrente Gli altri si preparino Gas, vai Ok, ho tolto la corrente, andate Where are you, ragazzi? Saja, sei qui? Oh oh oh, oh oh, oh 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 Sì, e posso anche combattere. Grazie per avermi salvato. Big Bird, qui Bravo 6. Abbiamo il nostro uomo. Ci vediamo all'area di atterraggio. Passo. Bravo 6, qui Big Bird. Arriviamo. Passo e chiudo. Andiamo. No, l'invasione inizierà tra poche ore. Perché? Gli americani stanno facendo un errore. Non riuscirò a... No, l'invasione inizierà tra poche ore. Marilla, secondo i ricognitori, Alla Sata potrebbe essere in un edificio a oveste della città. Dobbiamo conquistare la zona e catturare Alla Sata. Chiaro, in azione! Linea corsiera in vista. Ricevuto, Freighter 64. 10 secondi, CTO. Ricevuto. Sono sotto fuoco, nemico. Ricevuto. Merda, rompendo. Contatto visivo col bersaglio. 5 secondi. Perciò, le catturare. Miancini, via, via! Via, via, via! Grazie a tutti.